What Women Want che incontra What Children Want che incontra Senti Chi Parla rivisto chiaramente sotto il tuo cinema sei d'accordo? sono d'accordo io pensavo a What Women Want pensavo a Ted quando ho fatto il film pensavo a quelle commedie un po' scorrette rivolte a un pubblico familiare pensavo a Roger Rabbit nonostante fosse un film con commissione tecnica molto più complessa pensavo a quel cinema là e soprattutto pensavo ai cartoni animati pensavo a Tom & Jerry pensavo alle strisce dei Peanuts piuttosto che di Mafalda e pensavo ma se ci fossero dei bambini così piccoli che parlano e dicono da loro abbiamo superato lo scoglio tecnico abbiamo capito come si potevano ricreare completamente in digitale i bambini in alcune sequenze ed ecco bla bla baby Alessandro ti arriva la sceneggiatura di Fausto il primo pensiero qual è stato? la prima cosa che hai detto poi a Fausto? credo di averlo chiamato a metà sceneggiatura mi sembra sì credo che sia una delle prime sceneggiature che non ha avuto particolari revisioni almeno da quando ero innanzitutto sorpreso che dopo tanti anni si fosse ricordato il nostro incontro d'amore e soprattutto mi faceva specie la possibilità di poter interagire finalmente con quello con cui ho imparato a campare perché non ancora laureato non ancora uomo innamorato non ancora uomo con peli tutti usciti ho cominciato a fare il papà l'unica cosa contravvenzione è che non mi pagavano per fare il papà ma dovevo io pagare e quindi è stato era l'occasione giusta perché i bambini sono sempre state un mio punto di sfogo e di alleggerimento della vita fino a un certo punto per cui ho detto però questa è la prima volta che posso finalmente alleggerire la mia vita con quello che penso di saper fare meglio cioè il padre ecco mi hai parlato di di alleggerire no i protagonisti del film insieme a te Alessandro sono dei splendidi bambini bellissimi quindi l'umore la mattina prima di andare al lavoro sul set qual era? io mi ricordo che la prima cosa che arrivavo arrivavo in camerino salivo aprivo la porta a un certo punto nel silenzio aspettavo e sentivo se c'era un oppure ha detto caspita caspita iniziamo malissimo le nostre giornate erano condizionate dal loro umore cioè capivamo subito com'era l'andazzo della giornata perché avendo un asilo con tutti questi bambini tutti con i gemelli quindi una folla si condizionavano un po' a vicenda i bambini piangeva uno piangevano tutti improvvisamente e sapevamo che la giornata era in salita in parte c'è il digitale che aiuta dal punto di vista della messa in scena di questi bambini però ho notato che molti tenevano fortissima l'attenzione sul centro è un'impressione mia oppure guarda intanto la bravura è sua perché a volte lui recitava con un ipad messo qua piuttosto che con piuttosto che con delle persone dietro di lui in linea che attiravano l'attenzione in maniere scomposte e altre volte l'attenzione è ricreata digitalmente nessuna scena con più di un bambino è vera sono tutte finte perché ovviamente un bambino è già difficile da controllare da solo ma appena lo metti insieme a un altro bambino non terrà la posizione litigherà si muoverà rotolerà quindi tutte le inquadrature che hai visto dove c'è più di un bambino non sono vere domanda un pochino fantasiosa secondo voi cosa penseranno questi bambini quando si rivedranno fra qualche anno quando saranno coscienti poi diranno ero io secondo me per loro sarà uno splendido filmino di infanzia che non ha nessuno io pagherei per avere un filmino di quando ho un anno già normale senza parlare loro avranno una cosa magica in particolare i cinque protagonisti veramente è come avere un circo a disposizione sì hanno una loro pellicola fatata in cui si vede si vedranno interpretare un film che hanno recitato inconsapevolmente in cui fanno delle cose che all'epoca non erano in grado di fare cose non solo parlare ma anche muoversi con quella padronanza parlare al telefono fare delle scene di spionaggio eccetera quindi io credo che sarà uno shock e sarà un divertente servizio televisivo fra qualche anno ultima cosa il cinema è ripartito la macchina del cinema è ripartita la grande probabilmente speriamo non si fermerà più quanto è importante quindi portare al cinema sul grande schermo un family movie perché in Italia non se ne vedono tanti il motivo per cui abbiamo fatto questo film è proprio perché è quasi necessario adesso un film per far tornare le famiglie al cinema e sono le famiglie che non sono ancora rientrate nelle sale tornate con i bambini a vedere questo film è un film pulito molto divertente che piacerà sia ai grandi che ai piccoli e quindi è esattamente il film con cui poter tornare in sala la domenica pomeriggio sicuramente devo dire la verità e non lo dico per plagiare il nostro lavoro ma se non facessi parte di questo film e avessi dei figli leggermente come figlio di 27 anni ma già mia figlia che mi ha 16 ecco lo andrei a vedere perché finalmente potrei piazzarmi in sala e poter ridere come nei film di Checco Zalone che portano mi state annoiando a casa avete finito i film di Netflix questo è il film per uscire e non rimpiangere di aver dovuto cercare parcheggio esattamente grazie grazie a te grazie grazie a te